I compagni stanno ad abbracciarlo e... Allora, è la sua e risulta. Si ho capito, però se... Voglio dire, l'arbitro deve avere una visione, anche Gerardo. Devi vedere che Kismi si mette le mani in testa. Devi aiutarti, farti... L'arbitro sta rientrando e l'arbitro, se rivediamo le immagini, inizialmente non dà il gol. Secondo me lui ha guardato il suo collaboratore, che era dall'altra parte, che ha visto la palla dentro e ha dato il gol. Devo dirti che io sono rimasto estremamente stupito in telecronica. Però c'è stata una...